L'amministrazione comunale e le società sportive siracusane si sono ritrovate presso l'Urban Center di Siracusa per celebrare la festa dello sport siracusano. Tra gli atleti premiati al merito sportivo anche la giavellottista Giusy Parolino, atleta dell'ASD Milone Siracusa, che ha ricevuto il premio al merito sportivo per l'impegno e i successi agonistici per avere conquistato il 21 settembre 2023 la medaglia di bronzo nel lancio del giavellotto ai campionati europei. In una sala gremita hanno ricevuto il riconoscimento tantissimi atleti. Quando in una città si celebra lo sport a tutti i livelli, si celebra bellezza, benessere e cultura, ha dichiarato Giusy Parolino, che qualche settimana fa ha conquistato il suo sedicesimo titolo di campionessa italiana di lancio del giavellotto. Un plauso continua alla Parolino, va all'assessore Giuseppe Gibilisco, che si conferma un grande campione sia in pedana che nella vita, e al sindaco di Siracusa, Francesco Italia.